Quattro trucchi per richiamare l'attenzione di un uomo e come piacerli. E piacerli, diciamo. Allora, a parte la tecnica per richiamare l'attenzione di un uomo e piacerli, ci sono alcune cose che tu devi fare prima su te stessa, cioè per acquisire le tue capacità, per acquisire la tua forza, per acquisire la tua energia. Allora, la prima cosa che devi fare è metterti davanti allo specchio e dire io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono, io posso conquistare chi voglio. La seconda cosa che devi fare è imparare a darti delle emozioni, perché soltanto se impari a darti delle emozioni riesci a essere libera di governare la tua vita, riesci ad essere libera di agire nel modo migliore. Questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale. Se non ti sai dare delle emozioni, non ottieni nessun risultato. Devi veramente imparare a darti le giuste emozioni per raggiungere i giusti risultati. Credo che questo sia veramente la condizio sine qua non per poter conquistare un uomo, per non avere degli attaccamenti successivamente. Terza cosa, coltiva le tue passioni. Dai, diciamo, energia alle tue passioni. Ora, questa è la premessa del lavoro che devi fare su te stessa, perché altrimenti, come dire, non riuscirai a ottenere dei risultati. Se non riesci a fare il giusto lavoro su te stessa, se non riesci a portare avanti, diciamo, le emozioni che sono poi importanti, che sono poi fondamentali per la tua vita, non riesci a ottenere, non riuscirai a ottenere davvero nessun risultato. Quindi questo è un punto fondamentale che devi portare avanti, che devi tenere presente. Quindi quali sono queste modalità, queste cose che devi portare avanti, questi quattro trucchi per conquistare un uomo? Allora, il primo è utilizzare la prossemica, avvicinarti e allontanarti. Ogni volta che ti avvicini, genere delle microtensioni emotive. La cosa importante è non avvicinarti frontalmente, ma avvicinarti di lato. Se tu ti avvicini di lato, riesci subito a dare una tensione emotiva, riesci subito a dare un'emozione molto forte, e questo farà sì che tu potrai ottenere un risultato molto importante, è quello di generargli microtensioni. Quindi la sua parte emotiva riuscirà a capire che tu sei una persona interessante, una persona che può dare emozioni. E noi ci innamoriamo di chi ci dà emozioni, fondamentalmente. Questo è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale che devi tenere presente. Seconda cosa che devi fare, anche questa molto molto importante, applicare l'effetto cenerentola. Cioè ti sei già avvicinata, hai dato tensioni, hai già stimolato, diciamo così, emotività, e a questo punto vattene via. Vattene via, sparisci, ma come cenerentola lasciargli un effetto, diciamo così, lasciargli la scarpetta, lasciargli eventualmente un contatto, la possibilità di contattarti, la possibilità di trovarti. Potrebbe essere Facebook, potrebbe essere il numero WhatsApp, potrebbe essere, insomma, qualunque cosa per lasciare un contatto. Insomma, cenerentola sprolunga, lei ha lasciato la scarpetta, e questa scarpetta, insomma, è una cosa. Un'altra cosa fondamentale è quella di, come terzo punto, quando ti cercherà, vi vedrete, insomma, devi chiedergli di farti delle foto. Al primo appuntamento, dici, guarda, mi faresti delle foto. Potrebbe essere un buon escamotage, perché gli dici che devi mandarle a qualcuno, c'è un amico che inizia a introdurre da lontano un antagonista, e lo fai un po' cornuto e mazziato, no? Nel senso che tu fai mille foto, e ti metti magari in pose un po' sexy, e lui, senza spiegare bene qual è questa amica a cui devi mandare queste foto, insomma, però gli vai subito a generare curiosità, d'altra parte vai a trarlo, d'altra parte, insomma, vai a stuzzicare un po' la sua fantasia, e vai a generare, di fatto, degli antagonisti. Questa è una modalità molto, molto utile per coinvolgere. Io lo suggerisco, perché è un sistema molto, molto valido per dare degli stimoli emotivi, senza però, ovviamente, far niente. E poi, come quarta cosa, un altro stimolo molto importante, è creare, diciamo, un contatto, sempre meglio con altre persone, per evitare che ci siano, diciamo, per evitare dei suoi approcci. Però, ad esempio, avvicinati, annula la prossemica, per dire, attraverso il contatto fisico. Casualmente, magari, appoggiagli un seno su un braccio, mettigli una mano sulla spalla. Insomma, fai qualcosa, attraverso, crea un contatto fisico per andare proprio a stimolare molto di più, in modo molto più marcato, le emozioni. Ecco, queste quattro cose, diciamo, questi quattro trucchi, permettono di richiamare rapidamente l'attenzione di un uomo e di piacerli. Prova a usarli perché danno veramente degli ottimi risultati. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E seguimi, ovviamente, anche su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e seguimi su TikTok.